Appurato che in commercio non esistano pannoloni per cisterne, in quanto business non appetibile alle grandi industrie, ho deciso di turare la falla con delle viti, delle rondelle e della colla al caldo, dopo aver verificato la tenuta del circostante metallo. E finalmente potrò di nuovo gustare la mia acqua aromatizzata alla cannella bruciata, prima di sapere cosa realmente fosse. Complimenti alla ruggine, la costanza premia. Ho fatto due bei buchini. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. Grazie per la visione. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.